ciao Emanuele e benvenuto al web marketing immobiliare summit grazie grazie a te ciao un saluto a tutti e grazie ancora a te Francesco per l'invito ok quest'anno anche quest'anno in questa edizione ho invitato più di un agente immobiliare perché mi piace sempre avere il rapporto con il campo la teoria è bella ma fino a un certo punto poi bisogna sempre scontrarsi con la realtà e spesso quella bella teoria rimane sulla carta ma poi sulla pratica qualcosa deve cambiare uno idealizza molto sulla teoria quindi avere questo rapporto diretto poi con il mercato con la pratica ci permette poi di fare quelle azioni più efficaci quello che faccio poi sempre anche io che non mi limito a insegnare le cose ma le faccio le faccio anche ed è la stessa cosa che fai tu proprio nel settore immobiliare tu sei un agente immobiliare e sei anche un mio collega perché fai anche la formazione ok quindi io ti ho invitato per questo oggi parleremo di processo di acquisizione ovvero come trasformi la notizia in un incarico in esclusiva e quindi prima di iniziare magari ecco se ci vuoi dire tu sicuramente sarai più bravo di me a presentarti qualcosa di te e poi mi vai a condividere le slide ok ok beh allora innanzitutto dico che sono nel settore immobiliare dal 2004 ok ho toccato dico tantissime sfumature di questo settore perché mi sono occupato dalle prime attività che erano quelle come tanti credono che erano quelle di fare telemarketing chiamate freddo piuttosto che anche suonare a campanelli perché poi la scuola veniamo tutti da lì o tanti quantomeno insomma la scuola è quella e poi è chiaro che nel tempo dopo uno migliora sono sempre stato molto appassionato di formazione per cui ho sempre letto tanto ho fatto tanti corsi e quant'altro e mi ritrovo oggi con la mia agenzia sono in provincia di Modena sono a Formigine esattamente e sostanzialmente vagamente dall'accento vagamente si capiva forse si poteva ecco perfetto e molto semplicemente insomma in questo ultimo anno soprattutto ecco diciamo così ho cercato di sintetizzare tutto quello che sono stati questi anni perché ormai sono vent'anni che sono nell'immobiliare soprattutto in questo ultimo anno ho fatto veramente uno sforzo importante nel focalizzarmi su alcune attività che sicuramente mi danno più risultati e tenere in considerazione che le attività che non mi hanno portato dei risultati fino a oggi probabilmente o non li ho fatte bene o probabilmente non erano nei tempi giusti quindi insomma cercare sempre di migliorarsi il tempo è fondamentale il momento in cui fai una cosa è fondamentale sì il tempo è fondamentale quindi tutto qua ecco quindi sono ben contento oggi se posso condividere qualcosa del mio come dire quotidiano no professionale e spero che vogliamo dire no perché perché per chi non ti conosce magari cioè Emanuele oltre a fare bene il suo lavoro altrimenti non l'avrei chiamato è anche un un divulgatore insomma molto conosciuto lavori con con importanti brand ecco ci vuol dire insomma che cosa fai sei modesto grazie adesso io io adesso dire definirmi formatore e forse troppo ecco diciamo che mi piace ho detto divulgatore ecco divulgatore sì dai mi piace di più no mi piace naturalmente quando colleghi sia del mio territorio e soprattutto anche di altri territori l'altro giorno ero a Ravenna fra un paio di settimane sarò a Firenze ma quindi l'associazione di categoria con le associazioni di categoria oppure con dei gruppi che eventualmente si mettono insieme in 3 4 5 10 agenzie e quindi riusciamo a fare un'aula con delle persone semplicemente condivido quello che faccio e quindi non è che faccia vedere 20 30 slide cioè io apro il mio gestionale porto tutti i miei volantini tutti le mie brochure faccio vedere esattamente uno dopo l'altro i passi che in realtà andremo a vedere oggi con i nostri slide in realtà lo faccio vedere proprio dal vivo ecco dall'interno sostanzialmente e questo vedo che piace tanto ecco arriva beh certo perché perché viene dalla pratica perché poi quando senti una strategia tutto sembra bello no però poi devi calarla poi a volte succede che una strategia funziona per qualcuno ma funziona non funziona per un altro quindi va sempre calata poi nel contesto perché il contesto cambia tutto il contesto cambia le regole bene allora Emanuele io direi ti chiedevo questo perché le persone chi non ti conosce si chiede ma perché dovrei ascoltarlo e allora ecco io volevo rispondere a questa domanda dovete vi consiglio di ascoltarlo ok allora puoi condividere il tuo il tuo schermo allora quindi io ti lascio ti lascio andare muto il mio microfono e poi diciamo che fra quando hai finito ci ci facciamo due chiacchiere finali va bene buon lavoro perfetto perfetto quando vorrai chiedermi qualcosa mi raccomando non ti preoccupare chiedimi pure ecco senza problemi va benissimo allora sostanzialmente quello che vedremo nei prossimi minuti nei prossimi 10 15 minuti sarà quello che è il mio processo di vendita di un immobile partirei da qui perché perché quando mi trovo a parlare con i potenziali proprietari che magari mi possono dare il mandato sostanzialmente io parto da quello che farò per il loro appartamento ricordiamoci che le persone tutte quanti i proprietari hanno alcune domande che si fanno e se ci pensiamo sono sempre quelle le domande per cui quanto prenderai di provvigione perché ti dovrei dare l'incarico in esclusiva quanto tempo ci metterai a vendere il mio immobile e soprattutto che cosa farai per vendere il mio immobile ecco allora io ho semplicemente sintetizzato con questa slide ed è parte del materiale che do naturalmente ai proprietari perché perché voglio fargli toccare con mano veramente tutte quelle che saranno le attività voglio fare in modo che loro capiscono che affidando a me il loro mandato naturalmente possono contare non solo sulle attività sulle azioni che loro hanno o che pensano che ritengono che un qualsiasi agente immobiliare può fare dico io le foto o probabilmente il video per alcuni ma ci sono tante attività che un agente immobiliare può fare e gli voglio dare semplicemente la consapevolezza di quello che faccio e quindi ho cercato di come dire sintetizzarlo con una slide questa slide che vedete è anche una slide per esempio che io ho voluto stampare e che porto naturalmente ai proprietari addirittura ancora prima di fare l'appuntamento sia qui in ufficio e successivamente sulla sull'ora immobile sostanzialmente il processo di vendita è quel processo dove io metto dal punto 1 all'ultimo punto il punto 8 tutte le attività quindi il primo punto è naturalmente quello del mandato fino ad arrivare all'ultimo punto che è quello della stesura del preliminare e il rogito se vedete gli altri punti quindi la raccolta documentazione la promozione la collaborazione il pro open house l'open house e la negoziazione sono tutti i punti che se ci pensiamo bene tutti gli agenti immobiliari in un certo senso possono fare io aggiungerei che devono fare ok per poter veramente da una parte ottimizzare i tempi di vendita e dall'altro sicuramente ottenere le migliori condizioni di vendita che poi alla fine se ci pensiamo francesco è quello che poi vogliono i proprietari no cercare veramente di ottimizzare la loro transazione immobiliare quindi in modo molto semplice andiamo a vedere i punti il primo punto è sicuramente quello del mandato quindi si farà l'appuntamento con la proprietà è proprio uno dei punti fondamentali no si cerca di ascoltare un ascolto attivo quindi non solo sentire le parole dei proprietari ma ascoltare attivamente sia quello che ci stanno dicendo ma soprattutto cercando anche di capire quello che non ci stanno dicendo che tante volte sono gli aspetti quelli più importanti poi il secondo step è sicuramente quello della raccolta documentazione quindi raccogliere tutta la documentazione e non come magari alcuni colleghi ancora fanno che la raccolgono al termine della negoziazione ma raccoglierla già subito quindi quindi miglia romagna per esempio abbiamo l'obbligo di raccogliere la relazione tecnica su qualsiasi immobile ma naturalmente anche la certificazione energetica chiedere il consultivo condominiale preventivo no l'amministratore di condominio e tutte quelle diciamo certificazioni che possono essere veramente di valore aggiunto da far vedere un potenziale acquirente poi naturalmente c'è lo step quello della promozione che io cerco di far capire ai proprietari che non è solo quello di come dire fare dieci foto metterle su un portale e poi come dire aspettare abbraccia concerti che arrivano le chiamate dai vari portali immobiliari ma c'è tanto di più e voglio farglielo percepire quindi gli ho creato una checklist di attività che vado a condividere con loro tra cui naturalmente le foto tra cui naturalmente anche il cartello sul balcone se c'è la possibilità ma ci sono tante 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 altre attività da poter fare una tra tutte che vorrei condividere oggi è sicuramente quello della dello step successivo quello della collaborazione io credo tantissimo nella collaborazione collaboro tantissimo con tutti i miei colleghi qua sul territorio i miei colleghi qua sul territorio sanno che i gli annunci immobiliari che ora in portafoglio io possono tranquillamente chiamarmi possono collaborare possono portare un loro cliente tutto questo perché perché naturalmente voglio dare la certezza un proprietario di aver venduto non solo con i miei potenziali acquirenti ma anche con un potenziale acquirente che magari ce l'ha in banca dati un'altra agenzia quindi perché precludersi una vendita magari un mio cliente offre 85 e magari un cliente di un altro agenzia offre perché no anche 90 o 95 allora io voglio dare la certezza di aver venduto le migliori condizioni e sicuramente la strategia della collaborazione è quella che mi permette di realizzare questo e fate bene i conti che questa è la strategia della collaborazione è una per quelli che già utilizzano e già è il loro modus operandi lo dico per quelli di immobiliare che già collaborano è una di quelle cose che dobbiamo far percepire alla proprietà perché tutto quello che facciamo noi probabilmente lo sappiamo bene noi probabilmente anzi dobbiamo saperlo bene noi ma tante volte i proprietari non sanno quello che facciamo per il loro immobile magari ci vedono alla firma del contratto del mandato magari quando mandiamo il fotografo o se andiamo noi a fare le foto sull immobile ma poi in realtà non ci vedono più se non quando facciamo le visite allora facciamoli toccare con mano veramente facciamoli percepire quello che nel concreto noi facciamo allora io glielo voglio dire sappi che se mi affidi l'incarico il mandato potrei contare sulla mia banca dati su tutte le attività come il balcone il cartello sul balcone i volantini le sponsorizzate sui social e quant'altro ma sappi che possiamo anche portare clienti sul tuo immobile di altre agenzie immobiliari questo per non precluderci delle opportunità di vendita poi naturalmente gli altri punti sono quelli io vendo con la strategia dell'open house quindi vuol dire che per come dire pianificare la data dell'open house si pianifico dopo quattro settimane dalla presa in carico dell'immobile è chiaro che la settimana prima di fare l'open house ho anche piacere di incontrare i potenziali acquirenti quelli che si sono prenotati naturalmente ho piacere incontrarli qui in ufficio uno per fargli vedere già le planimetrie per fare in modo di non perdere tempo ok e soprattutto per capire anche se da un punto di vista finanziario loro hanno già fatto tutte quelle come dire procedure per poter essere tranquilli qualora gli dovesse piacere l'immobile per poter sottoscrivere una proposta quindi il classico appuntamento in banca piuttosto che con un consulente mutui naturalmente il giorno dell'open house sarà un evento dalle di solito io lo faccio dalle 10 a mezzogiorno dalle 10 e mezza alla mezza un sabato mattina perché tendenzialmente le persone diciamo la disponibilità è più ampia in quella giornata lì è chiaro che è un bellissimo momento per poter far vedere liberamente a tante persone l'immobile fisso degli appuntamenti 10 minuti in 10 minuti o un quarto d'ora un quarto d'ora seconda anche poi naturalmente dell'immobile per poter far visionare loro liberamente qualora gli dovesse piacere naturalmente li faccio vedere anche tutta la documentazione tanti che sono venuti in ufficio la settimana prima hanno già visto la documentazione tutto questo perché perché se io faccio vedere già loro tutta la documentazione quindi che ho fatto la certificazione energetica la relazione tecnica ho già l'amministratore condominiale che mi ha spedito il consultivo il preventivo di quest'anno gli faccio vedere che ho la certificazione dell'impianto elettrico e quant'altro è chiaro che come dire si accorciano i tempi per poter sottoscrivere una proposta vera concreta su quell'immobile perché altrimenti le persone tornano a casa e dicono sì mi è piaciuto questo immobile adesso dobbiamo iniziare a guardare la documentazione faccio una proposta però la vincolo alla presa visione della relazione tecnica magari voglio vedere la certificazione energetica ancora non so le spese condominiali quindi ci risentiamo fa 15 giorni ecco allora che il secondo step che ho fatto all'inizio cioè la raccolta documentazione mi serve a me come gente immobiliare per poter proporre un immobile in tutti i suoi aspetti con tutte le sue diciamo così di certificazioni e documentazioni ma soprattutto per accelerare i tempi di vendita magari al sabato mattina facciamo l'open house e il pomeriggio già raccolgo le prime offerte al lunedì il martedì raccogliamo ulteriori offerte tutto questo non sarebbe possibile se non ho la documentazione sarebbero tutte offerte vincolate magari non solo alla delibera del mutuo ma anche a la presa visione della relazione tecnica e quant'altro e non ce lo possiamo permettere se noi vogliamo veramente dare un valore aggiunto al proprietario queste cose qua devono essere veramente la base secondo il mio punto di vista naturalmente dopo ci sarà l'aspetto della negoziazione immobiliare e poi quello dell'organizzazione del preliminare e del rogito perché vi ho fatto vedere questo processo di vendita no il titolo ricordiamo di questo mio speech è il processo di acquisizione ok allora perché ho fatto vedere questo processo di vendita perché nel momento in cui io decido di fare delle attività di web marketing per esempio o delle attività offline per diciamo così condividere quello che il mio messaggio e dire ai potenziali proprietari venite da me sceglietemi sappiate che se dovete vendere casa io posso essere veramente il vostro miglior partner immobiliare ecco che io questa strategia questa slide che voi state guardando oggi è sicuramente una delle cose che vado a convogliare durante tutto l'anno durante tutti i mesi attraverso strategie di web marketing attraverso le pagine che poi francesco vi dirà di funnel di marketing e quant'altro quindi io devo fare in modo di catturare l'attenzione di un potenziale proprietario io lo faccio dicendo non che sono il più bello o che l'anno scorso preso il premio da numero uno di chissà che cosa ma quelle sono cose belle che in un qualche modo ci posizionano come professionista ed è giusto dirle attenzione ma alla fin dei conti gli dobbiamo condividere un messaggio che possa veramente attaccare la loro testa la loro mente cioè noi dobbiamo dargli un messaggio al potenziale proprietario che ha una casa da vendere oggi o potenzialmente lo potrebbe avere da qua ai prossimi due tre mesi gli dobbiamo un motivo gli dobbiamo dare un motivo per farci scegliere se non diamo un motivo per farci scegliere ma diciamo vieni da noi perché per il mese di novembre ti paghiamo noi la certificazione energetica oppure non ti facciamo non ti facciamo pagare le provvigioni sì ok ognuno decide no a casa sua io vi dico il mio punto di vista il mio punto di vista è quello di continuare a spingere tutti i giorni tutte le settimane tutti i mesi e un anno che sto spingendo veramente all'inverosimile per far arrivare un messaggio vero concreto nella testa dei potenziali proprietari che devono vendere un immobile il messaggio è ascoltami contattami fisseremo un appuntamento qui in ufficio sarà un'opportunità per conoscersi ma soprattutto per farti vedere nel concreto quello che faccio ogni giorno e non te lo dico io perché la come dire la slide o lo slogan no marchettaro che ci possiamo inventare ma te lo faccio vedere perché ti voglio condividere la mia agenda voglio condividere la checklist di quello che faccio per ogni immobile ti voglio condividere i risultati che abbiamo ottenuto seguendo esattamente questo processo di vendita quindi come miglioro il mio processo d'acquisto questo è quello che penso io non è la verità è semplicemente il mio punto di vista come posso migliorare il mio processo d'acquisto sicuramente andando a spiegare nel dettaglio tutto quello che faccio una volta che mi hanno affidato il mandato naturalmente lo devo fare con estrema convinzione con estremo entusiasmo con tutta l'energia che posso perché perché voglio che arrivi un messaggio di un professionista che sul campo che vuole veramente aiutarli si che prende anche le provvigioni in caso di vendita questo è ovvio è il mio lavoro quindi le mie competenze devono essere riconosciute ma che non lo vedono come costo ma che venga percepito veramente come il loro migliore investimento per fare questo però non posso fare delle parole non posso star qui a fare degli appuntamenti di due ore tre ore per come dire cercare di convincerli ma in venti minuti possiamo fare un appuntamento di acquisizione concreto vero facendo vedere esattamente passo dopo passo quello che andiamo a fare nei restanti cinque dieci minuti dopo mi direi tu francesco vorrei integrare a questa a queste parole che ho detto anche un altro aspetto importante voi in questo momento state vedendo questa slide sappiate che è una delle prime slide che vado condividere con un proprietario durante la prima telefonata che faccio durante la prima telefonata ho una serie di domande che gli faccio una sorta di copione no perché voglio capire di che mobili stiamo parlando e soprattutto voglio capire il perché vuole vendere qual è il motivo della sua vendita bene finita questa prima telefonata gli invio subito una mail con una serie di link che naturalmente andranno su alcune pagine strategiche del mio sito dove si potranno non tanto vedere chi sono che non sono e quant'altro si bello ci metto anche questo ma soprattutto gli metterò un link strategico dove atterreranno su una pagina dove ho sostanzialmente messo tutti questi step uno per uno con di fianco un video ho fatto un video dove spiego esattamente in un minuto minuto e mezzo tutti questi otto step questo credo che sia già il primo passaggio diverso rispetto eventualmente miei colleghi il primo obiettivo che mi prefisso nella testa è quello sicuramente quello di differenziarmi rispetto ai miei colleghi e quello di posizionarmi su uno standard diverso rispetto ai miei colleghi non ho la presunzione di dire sono più bello più brutto più simpatico antipatico ma voglio che le persone percepiscono che posso essere diverso rispetto già agli appuntamenti che hanno fatto con altri agenti immobiliari quindi telefonata mail successiva immediatamente finisco la telefonata lo scrivo nel mio crm e subito gli mando una mail riapro il mio crm e scrivo che gli ho mandato la mail di presentazione nell'arco di due giorni io ho già anticipato in telefonata che riceveranno una una busta molto semplice non so se la vedete con all'interno una serie di 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 volantini il primo era questo quello che avete visto naturalmente il tema dell'open house quando io scrivo vendere case con successo naturalmente voglio anche fargli percepire che c'è un metodo non è solamente uno slogan ma sono lo specialista dell'open house ed essendo lo specialista dell'open house non te lo voglio solo dire ma ti voglio addirittura anche aggiungere i quattro punti per te importanti se facciamo l'open house che sicuramente ve li leggo velocemente il primo è quello del risparmio del tempo il secondo naturalmente quello di fare un marketing attivo su quelli immobili quindi non aspettare solo le chiamate dai vari portali naturalmente il tema della collaborazione ve ne ho già parlato prima e quello che tutti si auspicano ricevere più offerte dopo l'open house poi gli faccio recapitare anche questo tribanda ok molto semplicemente è un tribanda con il mio processo molto semplice quindi scrivo chi sono alcuni alcuni risultati tutti i miei contatti perché voglio curare al meglio la mia presentazione e la mia presentazione non è solo un fatto di dire chi sono e chi non sono ciao sono emanuele ho 44 anni ho all'ufficio a formigini di modena e lavoro su tutta la provincia di modena ma gli voglio anche dire siete affidi a me se mi darei l'incarico avrai la possibilità di usufruire di tanti servizi concreti veri e te li voglio mettere nero su bianco quindi questo sostanzialmente poi ci sono altre lettere di presentazione c'è un altro brochure che ho inserito solamente i feedback dei clienti che hanno lavorato con me quest'anno abbiamo fatto una un altro brochure molto bellina con tutti i feedback di quest'anno insomma tutta una serie di attività per far percepire quanto più posso io veramente essere un valore aggiunto lo slogan che tante volte dico con i proprietari e creo la strategia per poter vendere alle migliori condizioni il tuo immobile e per creare la strategia ho preso un momento di riflessione in realtà vi devo dire che ogni mese cerco di integrare qualcosa quindi è un continuo mutare però mi sono ritagliato il mio tempo ho cercato di capire le attività quelle che hanno veramente un impatto importante per il proprietario ho cercato di capire anche quelle che sono le attività che portano pochi risultati cercando sempre di contestualizzare vi dico anche la verità perché perché mi sono accorto che determinate attività fatte su un appartamento possono avere un impatto completamente diverso se fatto su una villa e taschiera tutte le attività fatte su un cantiere possono essere sicuramente diverse rispetto le attività fatte su un appartamento in centro a modena magari ancora dato in locazione le attività sostanzialmente sono quasi sempre le stesse cioè ho cercato di standardizzare quello che è il processo naturalmente cambiano poi gli elementi quindi ogni appartamento è sé e ricordiamoci che ogni proprietario è una persona quindi per quanto io possa standardizzare il processo ricordiamoci poi che abbiamo sempre a fare con le persone quindi se possiamo migliorare un attività la facciamo se possiamo togliere una determinata attività naturalmente dobbiamo farlo sta poi alla nostra intelligenza professionale farlo quindi queste sono un po diciamo così la sintesi del mio del mio quotidiano vi do anche una giustificazione del perché sono arrivato quest'anno a pensare alla fine dell'anno scorso in realtà da settembre ottobre dell'anno scorso a pensare a questo tipo di modello di attività di azioni perché perché in realtà io voglio aumentare tantissimo i miei numeri quando vado nei vari convegni nei seminari insomma o quando faccio degli speech io lo dico sempre perché dicendolo mi sto prendendo anche un impegno con me stesso mi sono promesso di voler aumentare i miei numeri e quindi per aumentare i miei numeri mi ero reso conto che non potevo lavorare come avevo sempre fatto ecco sostanzialmente sembra quasi una banalità però la realtà è questa cioè se io corro avanti indietro a fare degli appuntamenti alle 7 di sera alle 8 di sera sabato pomeriggio alle 5 cercando di essere sempre disponibile cercando di fare qualsiasi cosa cercando di perdevo tanto tempo ma in realtà non stavo crescendo come volevo c'era veramente occupato ma non ero produttivo in realtà non so se è chiaro questo concetto per cui quello che diciamo così il mio processo il mio approccio che mi ha portato poi a standardizzare questo processo è sicuramente da una parte far arrivare un messaggio che poteva essere differenziante rispetto altri miei colleghi sul territorio per posizionarmi al meglio per farmi scegliere e dall'altra parte naturalmente cercare di ottimizzare quanto più possibile il mio tempo perché poi ricordiamoci che io 24 ore come voi e non ne posso lavorare 16 perché ho comunque poi una famiglia due bimbe insomma e c'è tutto anche diciamo così la vita al di fuori della vita professionale quindi questo è stato il mio il mio motivo no quando ho fatto questa riflessione ho voluto una volta che ho standardizzato che vi ricordo ancora un foglio bianco una penna e avevo iniziato a creare questo schema mi ricordo in quel momento ho voluto prendere una decisione perché altrimenti facciamo sempre tanta formazione io ascolto tantissimi formatori ascolto guardo tantissimi video su youtube vado partecipo anche corsi di formazione come uditore e ci sono sempre tante belle parole e io torno a casa sempre carico a molla per poter fare ma poi bisogna calare tutte quelle belle parole nella nostra vita vera nel nostro quotidiano perché tutte le settimane arrivi lunedì e tutte le settimane arrivi lunedì vuol dire che io tutte le settimane le otto un quarto sono in ufficio e devo cercare naturalmente di dare il meglio ai miei proprietari e dall'altra parte aumentare le persone che mi danno un incarico quindi lo speech di oggi voleva essere semplicemente il mio punto di vista il mio come dire come sono riuscito ad arrivare a questo tipo di approccio ecco qual è stato il mio pensiero per arrivare a questo se qualcuno vorrà creare da stasera da domani il suo processo di vendita e di conseguenza il suo processo di acquisto beh naturalmente vi dico potete copiare il mio ma non sentitevi vincolati da quello che avete visto in questi 20 minuti create il vostro processo se per voi otto step sono tanti riduceteli in quattro riduceteli in cinque se per voi otto non è abbastanza e volete metterne altri due tre raccontate alle persone posizionatevi sul territorio che voi avete un protocollo fatto da 12 step per poter vendere al meglio il loro immobile la mia sfida che vi lancio è quello più che altro di mettervi veramente a sedere prendere un foglio una penna chiudervi spegnere il cellulare magari un sabato pomeriggio con calma un'ora e fare silenzio concentrarvi iniziare a scrivere a scrivere a scrivere buttati via dei fogli rifatti buttati via è un processo è un processo questo processo che voi vedete questi step gli ho portati qua per quanto sia come dire banale no quello che vedete oggi sappiate che ci ho messo un anno e ogni mese cerco di o togliere qualcosina aggiungere qualcosina ci cerco di correggerlo in corsa cerco di migliorarlo laddove mi accorgo che i proprietari hanno una qualche domanda particolare quando vedo che ci sono delle domande che sono ripetitive che sono sempre quelle le cose che vogliono chiedere allora io cerco qual è il miglior modo per gestire un'obiezione anticiparla allora voglio fare in modo di dargli già la risposta magari già scritta che sia all'interno di questo di questo processo ok quindi queste sono le le attività vado a chiudere ok questo primo speech dicendo questo tutte le attività che andiamo fare sul territorio piuttosto che online quindi tutto quello che possiamo definire offline e online non possiamo farlo solo come dire per perché ho visto un mio collega che lo sta facendo la provo bello perché c'è la voglia di migliorarsi ed è bellissimo ma cercate di farlo veramente con la consapevolezza di quello che siete voi cioè ritagliatevi la camicia su misura per voi se avete determinate competenze fatele risaltare fatti in modo che sia un elemento differenziante rispetto altri vostri colleghi sul territorio io come dire il mio percorso accademico mi ha portato a fare una bellissima esperienza anche alla bologna business school io ho un mba e studiando per due anni questo questo master è chiaro che io oggi mi trovo a parlare bene mi trovo in sintonia a parlare con tantissimi imprenditori a parlare con tantissimi private banker con tantissimi commercialisti talvolta anche avvocati allora io cerco di spingere in quella direzione perché perché in un certo senso è la mia zona di comfort magari qualcun altro che oggi è all'ascolto oggi magari dice no ma io faccio fatica non saprei di che cosa parlare e semplicemente direi ciao mi chiamo pino e faccio l'agente immobiliare ecco non funziona questo se avete delle competenze cercate di sfruttarle quanto più possibile questi sono i vostri punti di forza allora anche qui la riflessione che chiaramente potete fare e che io mi faccio tutti i mesi è qual è il mio punto di forza quali sono gli altri punti di forza secondari quali sono anche i miei punti di debolezza allora a volte sono nella testa mille pensieri che dico ma devo colmare tutti questi punti di debolezza devo spingere sui miei punti di forza cosa devo fare e la risposta che mi sono dato in questi in questi anni e che naturalmente sui miei punti di forza devo spingere a manetta ok e dall'altra parte sui punti di debolezza è chiaro che quelli che mi viene diciamo così richiesto un un effort un impegno di poco conto lo faccio ok per quelli che invece mi viene richiesto un impegno importante magari riesco a colmare un punto di debolezza fra sei anni è chiaro che merito un momento di riflessione per poter decidere al meglio probabilmente lo accantonio e continuo a riuscire ai punti di forza perché nel frattempo il tempo passa quindi questo è un po il mio approccio ottimo eccomi a ottenere pensare finito ultimo tema ultimo tema velocissimo dico questo questo processo di vendita nonché processo di acquisto ci sono arrivato anche per un motivo molto concreto che io sono da solo in ufficio no ho una persona che mi aiuta nella grafica nell'amministrazione e quant'altro quindi per me anche un motivo di sopravvivenza no devo standardizzare perché altrimenti abbiamo sempre quel pensiero che sono solo e non posso raggiungere dei numeri importanti invece no ribaltiamo la proprio nostro approccio sono solo e voglio raggiungere dei numeri importanti che cosa posso fare il tempo è sempre quello come posso ottimizzare al meglio le mie attività ecco allora la mia risposta è stato sicuramente in questo ottimo grazie ma le puoi togliere la condivisione perfetto allora vengo qui sì allora allora vediamo un po oh eccoci qua ci siamo ok bravissimo molto complimenti per per lo speech e avevo insomma capito un po però chiaramente vedendo tutta la spiegazione ho capito che tu hai un metodo praticamente scientifico e questa è una cosa importante perché solo se hai un metodo capisci dove anche non imperfetto ma se hai un metodo capisci dove stai sbagliando dove stai andando bene dove puoi migliorare altrimenti si va alla cieca quindi meglio un metodo imperfetto e non è il tuo mi sembra perfetto che nessun metodo no andare per tentativi e quasi vede il professionista cioè il professionista è quello che ha un metodo uguale risultati uguale migliorare quindi complimenti quando quando tu parli francesco nei tuoi video per esempio delle attività di marketing online che parli dei social parli di google parli delle pagine delle landing page e quant'altro e parli tante volte anche delle dei kpi no c'è sapere che un certo di numeri mento ti ha portato x numeri che poi ci sono rivelati buoni o non buoni se non abbiamo quello schermettino lì per quanto banale possa essere uno schermettino anche di excel ma almeno sappiamo di che cosa stiamo parlando io mi trovo molto d'accordo in questo in questo approccio in questa metodologia e io ho cercato di farlo allo stesso modo per il per i venditori ecco ma i kpi sono in qualsiasi attività quindi se io aspetto solo alla fine per tirare le somme mi sono perso tutti i passi intermedi che devo fare se sto se sto andando male lo capisco prima se analizzo dei kpi ad esempio faccio 100 chiamate al giorno e non c'ho neanche un appuntamento cioè non devo arrivare al fatto che non ho preso l'incarico perché non ho avuto gli appuntamenti evidentemente l'attività che ho fatto non me li ha procurati ho sbagliato lo script anche lo script quando si chiama qualcuno è avere un metodo perché io so che se ti dico una cosa succede a se ne dico un'altra succede b e lì lì migliori no facendo sempre usando sempre lo stesso script per 100 persone vedo che succede poi cambio lo script e vedo che succede con quelle altre ci vuole cioè il business è fatto di numeri quindi ci vuole un approccio un approccio scientifico io c'ho un po di domande non credo che te le farò tutte perché sennò sforiamo però ecco colgo alcuni alcuni punti interessanti no che hai detto una cosa interessante è quando parli con il venditore il proprietario e capire soprattutto quello che non ci stanno dicendo cosa non ci dicono i proprietari molte volte cosa ci nascondono beh allora i temi qui credo che i miei colleghi all'ascolto possano veramente portare tantissime case history te ne dico cito adesso quelli più se vogliamo quelli più semplici tante volte mi trovo ad andare a casa da alcune persone dove parlo solo con il marito e magari per due volte non vedo la moglie e l'esperienza mi porta anche ad averlo come approccio poi magari non è non si va in quella direzione ma io lo devo avere che magari c'è una situazione in casa tale per cui magari si devono separare e quindi il marito sta mettendo avanti le mani per sapere delle valutazioni immobiliari e per me non è un dettaglio non è un dettaglio perché come professionista è importante perché sto parlando con un solo proprietario e se lo faccio per dieci volte rischierei di perdere tempo ecco oppure per il mutuo persone che ti dicono sì sì abbiamo il mutuo però tutto bene e poi magari invece sono sei mesi che per qualsiasi motivo non entro nel merito magari hanno difficoltà al pagamento delle rate per cui è già arrivata eventualmente la lettera dalla banca piuttosto che guarda ci sono veramente tantissime case history possono essere anche gli eredi che magari su cinque eredi faccio l'appuntamento con due e gli altri tre non sanno neanche che hanno fatto un appuntamento con un agente immobiliare cioè sono veramente tanti quindi investi un po di tempo in più a parlare col cliente per evitare di sprecare tempo dopo no perché se una cosa la scopi troppo tardi e tra l'altro ti dico anche e tra l'altro ti dico anche che io sono elevato a 44 anni dove non faccio neanche più tanti giri di parole vado abbastanza diretto cioè nel senso voglio essere un professionista e voglio cercare già di partire no col piede giusto sapendo anche tutti gli elementi ecco di quella di quella trattativa di quel percorso ma quando poi uno è consapevole del proprio valore deve farlo valere c'è poco c'è poco da fare un'altra cosa interessante è che hai detto e si vede che tu lo fai tu sei uno dei pochi perché purtroppo la maggior parte degli agenti immobiliari si limita a fare la pubblicità degli immobili ma non fa personal branding non comunica non crea dei video tu hai una bellissima procedura che mandi hai fatto vedere con le mail però hai parlato hai detto una parola chiave che è far percepire perché dall'altra parte le persone anche quando davanti hanno un agente immobiliare che lavora molto che è un professionista serio si forma fa tutti gli adempimenti controlla tutte le carte ma spesso mancando un'attività di comunicazione al cliente che cosa arriva che quello apre due tre porte fa qualche telefonata ha messo il cartello ha venduto la casa e invece per far percepire il proprio valore è importante perché giustifica quello che mi paghi giustifica la provvigione tanti non ti danno credito perché non c'è comunicazione o sbaglio perché assolutamente cioè il proprietario si trova ad aver venduto un appartamento così mi raccontano alcuni colleghi tanti colleghi e gli fanno la classica diciamo così no le domande di obiezione sulla provvigione no fammi lo sconto no perché insomma tutta una serie di cose perché in realtà non hanno percepito tutto il lavoro che c'è dietro no loro vedono magari solo le due foto immobiliare.it perché li abbiamo girato il sito di idealista di wiki casa cioè ecco questo no loro vedono ma in realtà non vedono tutti il resto allora io cerco di fargli arrivare anche veramente tutti quelle che sono le attività ma in modo concreto è se io dico che contatto 150 agenzie immobiliari su modena io gli dico i nomi cioè non è a caso eh io gli dico i nomi se io gli dico che mando il messaggino su whatsapp a 108 agenti immobiliari nel gruppo di whatsapp della fiap perché adesso io sono in fiap ma sarebbe uguale se uno fosse in fi ma non cambia niente io lo mando veramente e glielo faccio vedere al proprietario che l'ho mandato a 108 agenti immobiliari sul territorio cioè diamo 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 valore adesso ti ho fatto degli esempi banali eh poi è chiaro che insomma ci sono anche tutti gli altri però diamo valore a quello che facciamo altrimenti loro non lo sanno ti vorrei fare un'altra una domanda una cosa non era tema diciamo di questa di questo tuo intervento tu hai parlato del dopo però se vuoi condividere con noi cosa fai per avere la notizia sì allora io mi sono fatto un foglio questo sempre in quel momento di riflessione che dicevo prima nello speech no io mi sono trovato a certo punto l'anno scorso a settembre ottobre dove sentivo veramente la la necessità di fermarmi tra l'altro ho voluto anche mia moglie di fronte a me nel tavolo rognoni abbiamo iniziato veramente a riempire un tavolo di due metri e mezzo no di mille fogli e veramente abbiamo fatto brainstorming su tutto è chiaro che se non partiamo dalla notizia se non partiamo dall'acquisizione tutto quello che poi è il processo di vendita bello figo bei video bel sito ma poi alla fine bisogna che qualcuno poi ci vada no ecco diciamo certo allora abbiamo iniziato a prendere un foglio e segnarci tutte quelle attività e l'ho fatto guarda dico la verità francesco l'ho fatto con ce lo dico sorridendo noi abbiamo pensato se io avessi un budget illimitato per poter fare queste attività quali attività potevano essere fatti in quel momento a settembre ottobre dell'anno scorso no budget illimitato quindi siamo partiti da andare no rai canali 5 lo stadio del sassuolo che ce l'abbiamo qua vicino cioè abbiamo iniziato veramente a scrivere di tutto poi è chiaro che la realtà è quella che non ti puoi permettere queste cose no quindi scendiamo scendiamo che cosa puoi fare beh insomma intanto ho una banca dati importante per cui cerchiamo anche di sfruttare la banca dati che ho un crm allora abbiamo iniziato a fare una lista dove molto semplicemente abbiamo iniziato a scrivere tutte le fatture che abbiamo inviato in questo periodo cioè quali sono le persone che hanno venduto con noi che hanno già provato il servizio quanto costa zero abbiamo iniziato a scrivere abbiamo fatto tanti contatti naturalmente erano già nel crm li ho semplicemente messi dentro in una sottocategoria che abbiamo creato e quindi quando vado a richiamare i clienti gestiti sono tutti quei clienti a cui li chiami li chiami al te l'ora perfetto e da lì abbiamo iniziato a fare una procedura tale per cui beh insomma il come dire gli auguri di buon natale si possono spedire non è una cosa brutta o una cosa invadente gliela possiamo spedire beh diciamo che possiamo spedire anche gli auguri di buona pasqua certo è che possiamo spedirli anche un buone ferie quando arriviamo a fine luglio ai primi d'agosto basta anche un messaggino su whatsapp ok poi naturalmente è chiaro che io una volta l'anno ho anche dato questa questa busta che ho fatto vedere prima no in realtà non è questa ma è nera per i clienti quelli che hanno già fatturato con noi ed è una busta dove all'interno si trovano tutta una serie di documentazioni anche se loro hanno già venduto con noi ma perché questo perché poi nella telefonata che gli faccio appena dopo io gli vado a chiedere se hanno un parente un amico un collega da poterci segnalare e chi meglio di loro se sono stati contenti voglio dire ci possono anche indicare qualcuno questa è una attività poi dopo ho fatto una serie di sottocategorie lo dicevo l'altro giorno che ero a ravenna con tanti altri agenti immobiliari ho fatto vedere proprio il mio gestionale ho fatto vedere le categorie cioè io ho delle categorie mi sono fatto nel tempo è chiaro che è un lavoro importante un investimento di tempo importante ma io tutti i commercialisti tutti gli avvocati tutti gli architetti geometra e geometri e private banker della zona io ce li ho tutti nel mio gestionale allora tu mi chiederai ma che cosa fai stai lì a chiamarli non chiamarli io faccio un lavoro di semina cioè è chiaro che tanti magari qua nel posto ci conosciamo anche perché per carità l'aperitivo te lo fai in centro in città eventualmente tanti possiamo avere anche i bambini a scuola o chi prima un qualche anno più grande oppure più va insomma se tanti magari già si conoscono è chiaro che sono tutti i professionisti che magari ti vedono anche ogni tanto magari mi fanno una qualche intervista in una rete locale in televisione qui emilia romagna trc piuttosto che magari la radio piuttosto e sono tutti quegli elementi che in un qualche modo mi vanno posizionare no quindi come per i clienti gestiti anche la brochurina per loro magari il messaggio per loro la chiama è un autorevolezza soprattutto quando sei su mezzi di altri o quello crea autorevolezza è come avere un libro diciamo ecco questo non ti nascondo francesco che anche questo speech che sto facendo in questo momento per me sarà motivo di grandissima condivisione per le persone che magari sono qua del posto che non si interessano neanche di immobiliare quindi non sanno neanche chi sei tu l'attività che fai e roba del genere ma io gliela presenterò come momento di condivisione da parte mia per un evento importante qui in italia e anche questo creerà comunque autorevolezza. A proposito scusami prima che me lo dimentico per chi sta seguendo la premiere può siamo siamo lì a vedere la chat quindi a vedere chi chi fa domande potete fare domande perché Emanuele sta guardando sta vedendo quindi fate tutte le domande che volete tranquillamente per chi sta seguendo ormai l'evento è passato può usare comunque i commenti e quindi poi cercheremo di rispondere. Ci sarà occasione assolutamente Ok. Assolutamente. Ottimo. Ottimo. Allora guarda eh voglio chiudere con una con una cosa eh molti no accampano scuse nel senso quando si parla ma sai dovrei sì ecco curare un po' più personal branding fare un po' di comunicazione eh ma non ho tempo. Allora Emanuele ci ha appena detto candidamente che lui è l'unico agente immobiliale della sua agenzia quindi fa tutto quello che deve fare. Sì sì. Non c'ha altra gente lui non c'ha. È la verità. E il Mirko scarcella della situazione che gli dice mettiti così che ti faccio la foto poi la pubblico poi editiamo no fa tutto lui quindi lui è pure fa tanto cioè io non magari anche tu alterni momenti come come me alterni momenti in cui sei prolifico momenti in cui stai più a lavorare che a comunicare però fai tantissima comunicazione crei tanti contenuti sui social eh tant'è vero che mi hai detto Francesco ma voglio iniziare a promuovere io ho detto aspetta lui dai lo promuovo subito sui social è vero parte subito parte subito cioè quindi non ci sono scuse cioè è un'attività così importante e poi ti farò un'altra domanda che non non è seconda a nessuno perché quella poi ti porta clienti fatturato con i soldi poi si risolvono tutti i problemi senza i soldi senza i clienti non si risolvono problemi allora la domanda è il lavoro che fai di comunicazione quanto ti sta aiutando nel trovare clienti nel chiuderli più facilmente no beh fondamentale no fondamentale guarda tieni presente questo che tutte queste attività che sto facendo come può essere anche questo speech all'interno di questo tuo evento ma così anche quando vado a fare i miei seminari o per le associazioni o per le altre reti in realtà non è tanto quello che è il tema di quello che porto a casa in termini di fatturato io non sono un formatore cioè nel senso la mia attività principale non è quello se vado a tirare una riga alla fine dell'anno per tutti i seminari che ho fatto quest'anno non è la mia attività non ho corsi online e non voglio neanche farlo cioè non è quello il mio focus io però me la gioco anche quando faccio i seminari chiedendo gli agenti immobiliari magari fuori provincia di collaborare con me mi avete conosciuto mi seguite in quel momento lì io sono già a un evento e allora non è i non so i mille duemila euro di quell'evento ma il fatto che un agente immobiliare ti possa riconoscere importante per poi domani collaborare perché te lo dico perché se io tiro una riga quest'anno ho chiuso una collaborazione importante con una palazzina di sei appartamenti con un agente immobiliare di milano sto chiudendo un appartamento molto bello qua in provincia di modena con un agente immobiliare di bologna sto chiudendo un'altra bellissima trattativa con un agente immobiliare di ravenna allora a volte è solamente un approccio mentale che dobbiamo avere cioè non solo quello di come dire essere sempre occupati arrivare a fine giornata cotti che non ci saltiamo fuori io arrivo e io arrivo a casa che sono veramente cotto ve lo dico ok però dobbiamo essere produttivi se un'attività la possiamo delegare tra virgolette a una promozione sui social facciamola attenzione che la sola promozione sui social non fa testo deve essere pensate essere organizzate ci deve essere un ecosistema no quindi il promo social ma è se tu quelli segni è francesco quindi la promo social così fine se stessa chiamami si devi vendere casa oggi non ha più senso mettiamoci un link di una pagina di atterraggio per poter puntini puntini e poi so che dopo indicherai tu e tutte le attività e tutti i tuoi video che ci sono sul lato canale youtube quindi è chiaro che dobbiamo semplicemente avere una visione un po più imprenditoriale meno da come dire liberi professionisti che diciamoci la verità liberi non siamo siamo professionisti punto ok professionisti impegnati ecco buon perfetto non liberi e quindi tutto quello che possiamo fare c'è qualcuno che mi chiede ma la tua attività social i tuoi contenuti ogni giorno come fai a signore io ogni giorno non ho tempo per farlo e quindi io una volta al mese devo devo pianificare tutta una serie di posta che vanno già ed escono già nel mio calendario e poi naturalmente ogni due tre giorni posso mettere qualcosa anche come dire live no di quello che può capitare in quella giornata ecco deve deve entrare è una cosa che deve entrare nella routine non è perché purtroppo ancora molto spesso è quella cosa che fai quando devi spingere le vendite quando te lo ricordi no è tardi il market deve essere integrato ogni giorno nella quotidianità perché poi anche come comunico con i clienti central marketing cioè poi per per fare un esempio proprio in tempo reale se tu ti fossi tenuto il tuo bel processo per te non avessi fatto alcuna divulgazione io non ti avrei conosciuto non t'avrei mai invitato qua ecco per esempio questo è questo è il fatto cioè non esisti se tu non lo dici non esisti proprio oggi così e se ti limiti a usare chiamati vabbè ci ho sprecato video e virus ti faccio la valutazione gratuita chiamaci perché noi siamo i bravi siamo i numeri uno questa roba qua non funziona questa roba anni 80 provare per credere non funziona ok è la roba degli artigiani della qualità che stanno pure vicino cioè quella cosa se la facciamolo loro la fanno e ti bombardano ogni giorno quindi quella cosa poi funziona ma se la fai tu piccolo imprenditore che non accedi a mass media quella roba non funziona siamo i migliori ci abbiamo la qualità no la professionalità non basta dire che ho la professionalità io te la dimostro e ti faccio vedere un processo organizzato dove ti guido e ti faccio vedere passo passo tutto quello che faccio allora quello mi viene da dire allora sei professionale perché sennò sono parole vuote sì sono parole tra l'altro tra l'altro come fai te francesco anch'io nel mio diciamo così modus operandi nel momento in cui faccio vedere il mio processo d'acquisto io gli riporto per ogni step anche le case history cioè ma l'open house non so come funziona allora ti apro il mio canale youtube ti faccio vedere un paio di video ho chiamato un videomaker abbiamo fatti video ma non l'ho chiamato il videomaker perché volevo far vedere che ero bello ma era proprio per far vedere cioè quel video lì è per far vedere alle persone come organizzo un open house allora c'è un conto è ascoltare le parole la qualità non basta mai e cioè se si vuole la qualità non basta mai certo il videomaker fotografo professionista meglio questo 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 cioè pensiamo alle piccole cose io sto facendo la questa diretta qua in in salo riunioni da me voi vedete alle mie spalle per esempio questi due processi di forex no sono due metri per un metro e venti qualcosa quando vengono le persone io non li accolgo mai e inizio a parlare ma li accolgo lasci parlare loro e le faccio sedere prima due tre minuti qui in sala riunioni e loro in realtà lo sanno che lo faccio apposta perché loro guardandosi attorno bravo già nell'occasione per vedere è una tecnica manipolatoria brava no perché ecco che cos'è la persuasione può essere usata a fin di bene o a fin di male della stessa guarda di bella di sei convinto che dai un servizio anche la differenza la differenza tra persuasione e manipolazione e proprio il fatto che io ti porto a fare una cosa ma che la volevi fare è semplicemente ti ti porto accelero questa cosa questa è la persuasione la manipolazione abbiamo una spintarella invece bravo io gli do la spintarella mentre la manipolazione quando una persona ti porta a fare una cosa che invece in realtà tu non volevi fare e c'è un'accezione negativa ok emanuele allora dove ti può se qualche agente immobiliare volesse collaborare con te o c'è un proprietario di casa che deve vendere nella sua zona dove ti possono trovare darci il tuo sito i due social io do un riferimento che è emanuele vallone punto it che il mio sito facile questo emanuele vallone punto it su questo sito per chi avrà voglia di vederlo e quant'altro non è il classico sito da agenzie immobiliare perché si ci sono anche gli annunci immobiliari ma sono più rilegati in una sezione chiusa lì ok ma c'è tutto quello di cui abbiamo parlato normalmente il contrario normalmente vedi solo annunci immobiliare bravo bravo quindi se avete da vendere a casa o volete collaborare perché se un agente immobiliare che sta ascoltando in questo momento naturalmente emanuele vallone punto tweet sono tutti i miei riferimenti social e dire e dire che vi mando io ok ok grazie ancora molto molto interessante hai portato del valore oggi qui quindi ti ringrazio credo che ti ringrazieranno pure gli ascoltatori e niente noi ci vediamo alla prossima occasione grazie mille saluto tutti quanti col to action finale prendete un foglio una penna chiudetevi veramente un'ora in silenzio ottimo lo faccio pure io buona giornata ciao 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 grazie ciao a presto